L'app del tono gioioso e scherzoso che la mia compagna vi ha presentato ci vedrà impegnati nei prossimi mesi in tante attività che ci permetteranno di realizzare una sorta di vademecum, una guida turistica. Faremo delle uscite sul territorio per catalogare i beni artistico-culturali di cui le nostre zone sono ricche. Pronto in monumento, redigeremo una scena informativa corredata da foto e video sia in lingua italiana sia nelle lingue straniere che studiamo a scuola. Il nostro scopo infatti è quello di conoscere bene la nostra terra per promuovere le sue bellezze e condividerle con quanti amano l'arte, la storia e la cultura in generale. Il nostro lavoro inoltre vuole rappresentare un'opportunità per il nostro territorio, infatti valorezzarlo e farne conoscere i suoi aspetti può essere un'occasione per molti giovani di investire proprio in questi luoghi il proprio futuro. Mi raccomando, scaricate anche voi la nostra applicazione.